Davvero? Non me l'ha mai detto? Oh sì, ma il suo gemello è nato e morto. Ma Walter... Walter, Walter, quasi sei chili pesava. Perfino nella pancia voleva più di tutti gli altri. Che deve fare una madre. Ama quel bambino di più. Ora il mondo deve dargli quello che gli serve. Dio. E' da Dio che ci viene il potere. Sì. Non è fortuna. È quello che sei. Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto, ho vinto io! Ma guarda, 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 ho vinto. Lì! Lì! Lì, cosa? Che c'è? Ha vinto, ma non ci sono soldi nella slot. Oh, figurati, santo c'è io. Non ho monete, non ho spiccioli. Ha vinto parecchio. Tu non hai niente? Gladys, hai un po' di contanti per caso? Senti, mamma, è tutto quello che abbiamo. Ma, ma guarda quanto ho vinto. Lo so, ma non abbiamo più contanti. Eh, ma... Eh, ok, ok, allora c'è tu un assegno.